416 per l'infanzia, 428 per la primaria, 1028 per il primo grado, 1849 in secondo grado e 1294 per il sostegno. In tutto 5.015 le cattedre disponibili in Puglia, ma oltre un migliaio potrebbero restare vacanti per assenza di aspiranti professori. Parte da questi numeri la denuncia dei sindacati di categoria che prevedono ancora un anno difficile per l'istruzione pugliese, il tutto al netto dei risultati di mobilità del personale docente. A titolo semplificativo, spiegano le organizzazioni, su 1294 posti disponibili di sostegno utili per le emissioni in ruolo, si riuscirà a stabilizzare meno del 30% di docenti, mentre nelle classi a concorso A20 di fisica, A26 di matematica e A27 di matematica e fisica, su 307 disponibilità ci sono solo 28 aspiranti. Naturalmente questi dati, secondo i sindacati, creano non poche difficoltà per il buon funzionamento e la stabilizzazione del sistema scolastico pugliese. La diretta conseguenza di tutto questo sarebbe la creazione di centinaia di classi pollaio nella nostra regione e un continuo di precari nelle aule scolastiche, in particolar modo a danno degli alunni diversamente abili.